Atletico, vediamo. Matteo Pizzi, preparatore atletico dell'Olimpia agnonese, è iniziata una nuova avventura sotto la società Granata. Prima di tutto ti chiedo, cosa ti ha spinto ad avvicinarti a questo club e quali sono anche gli obiettivi? Ma guarda, intanto grazie dell'intervista. Io sinceramente conoscevo per nome questa società. Poi grazie al presidente Marco Colaizzo mi sono appassionato a questa nuova avventura e devo dire che in questo paese si respira calcio. Noi abbiamo iniziato a dieci giorni, però è bello lavorare perché poi, ti ripeto, anche in giro la gente parla molto della squadra. Abbiamo fatto l'amichevole, c'erano due o trecento persone. Poi un gruppo di ragazzi giovani ma che ha molta voglia di migliorarsi. Quindi è bello lavorare con loro. Che cosa ti ha chiesto invece lo staff tecnico per quanto riguarda il tuo lavoro? Su che cosa state lavorando? Di solito al preparatore principalmente si chiede che la squadra corra. Però anche col mister Mauro Marinelli stiamo facendo tutti i lavori che vanno a unire sia la parte fisica che la parte tecnica. E quindi facciamo un lavoro combinato che poi risulta anche più divertente per i ragazzi che, ti ripeto, si allenano con intensità, con voglia. Quindi è un piacere allenarli. Diciamo che questa è la benzina che poi servirà effettivamente però per il campionato che partirà tra l'altro il primo settembre. Quindi c'è ancora tanto lavoro pre-campionato comunque da fare, però anche le aspettative sono tante. Assolutamente. Noi abbiamo fatto 10 sedute, quindi 8 giorni di lavoro. Quindi diciamo sì, la benzina da mettere per poi fare tutto il campionato. Però ti ripeto, la base è comunque il lavoro. Il lavoro va fatto sia adesso che durante l'anno. Però ti ripeto, visto l'ospiro di questi ragazzi penso che potranno togliere grandi soddisfazioni. Per quanto riguarda invece il tuo curriculum, esperienze con il Pescara Calcio, anche con il settore giovanile, quindi conosci anche il Molise. E esperienze anche con l'arena tu curi angolana. Sì, assolutamente. Sono stato 4 anni al Pescara in cui ho fatto settore giovanile principalmente. In cui facevo sia il preparatore che l'allenatore, per cui ho il patentino per allenare in Serie D. Quindi diciamo questa doppia veste mi aiuta in quello che faccio, sia a livello di ragazzi che poi sia con le prime squadre. Ti ha insegnato, possiamo dire, anche a rapportarti con le varie fasce d'età. Alla fine, anche da parte tua è fondamentale il rapporto che si stavola anche con i singoli giocatori, che però è sempre diverso. Assolutamente sì, anche perché poi il preparatore è visto sempre una figura che è subito vicino al mister e subito vicino alla squadra. Quindi deve fare anche da collante tra le due realtà. Quindi è un ruolo che mi piace fare e qui mi sento portato.